Pronto? Tizzi? È ora di iniziare a stendere la pista! Pista, costluttoli! Sta arrivando la pista! Affidenzi! Quanto vorrei avere un mio circuito personale! Lo riempirei di curve, controcurve e chicane! Ti tirerei alla velocità della luce! Aspetta! Un secondo! Ehi, tizzi! Mi aiuti a costruire la varianza di Duffy? Che roba è? È il tipo di pista sulla quale vorrei correre io! Ma fa parte del progetto? No, non proprio! Ma ti assicuro che sarà divertente! Divertente? Beh, allora ci sto! Su, occupati della pista! Al resto penserò io! Sì, capo! Tocca a te, tizzi! Movimenta un po' la pista e trasforma i miei sogni di pilota in realtà! In base al progetto direi che siamo ancora in pista! L'hai capita? Perché stiamo costruendo una pista! Bella battuta, Lola! Porchi, come procede il tuo lato? Oh, bene! Però qui è finita la pista! È finita la pista? Duffy avrebbe dovuto aver terminato la sua parte! Ehi, Duffy! Titti! Dove siete? Eccomi qui! Senti, Titti! Per caso hai visto Duffy? Sì, credo che stiate stando la variante di Duffy! Vi confesso che ho un bruttissimo presentimento! La variante di Duffy? E che cos'è? Titti, dov'è questa variante di Duffy? Eccola! È laggiù! Ehm... Duffy? Meglio se ci raggiungi! Ho paura che abbiamo combinato un pasticcio! Eccomi qui! Che succede? Duffy, in questo modo non riusciremo a finire il circuito! La tua pista è diversa dal nostro progetto! E la gara sta per cominciare! Non c'è tempo per delle modifiche! Mi dispiace, ma ho pensato a che tipo di pista vorrei io se fossi un pilota invece di rispettare il progetto! Forse possiamo inventarci qualcosa! Uniremo la variante di Duffy al progetto originale! Dobbiamo far combaciare i due circuiti... Le due piste! Se spostiamo un po' questa, possiamo inserire l'altra qui! Duffy a quel punto solleverà le due piste e le collegherà! Perfetto! Poi mancherà solo il pezzo che porta al traguardo! Diventerà un circuito davvero incredibile!